Noi siamo partiti alcuni anni fa, io sono partito alcuni anni fa, nel 2012, scegliendo di stare con l'attuale segretario nazionale del nostro partito. Allora era un po' difficile nel Partito Democratico, soprattutto nel Mezzogiorno e anche nella nostra regione, accettare questa sfida. L'abbiamo accettata, siamo stati accanto al segretario già da allora ed è una sfida che abbiamo, ritengo, vinta nella nostra regione. Siamo partiti con un partito diviso alle elezioni per il segretario regionale, che mi ha visto prevalere nelle primarie del 2012. E' un partito diviso nelle federazioni provinciali. Oggi siamo un partito unito, lo dimostrano le scadenze delle ultime competizioni all'interno delle federazioni. Io lo ricordo a me stesso, lo ricordo anche a chi ci ascolta, tre segretari unitari nelle tre federazioni nelle quali si è votato. Mi riferisco alla federazione di Crotone, di Catanzaro e di Cosenza. Una sostanziale unità del gruppo dirigente che, con un grande atto di responsabilità, si prepara ad affrontare le prossime sfide elettorali. In una condizione non semplice, in un mezzogiorno d'Italia che non vede ancora la ripresa economica che pure nel Paese c'è, in un mezzogiorno d'Italia nel quale dobbiamo lavorare per dimostrare che il Partito Democratico è un partito di governo che sta dando risposte.